ciao a tutti ragazzoli bentornati sotto il gaming oggi come potete vedere siamo su The Walking Dead The Walking Dead Survival Instinct con chi? con Super Rod Lemon e io Mayran 89 che era tanto che doveva ripresentarsi ma finalmente è tornato ok allora intanto fa un new game se non lo conoscete questo è il gioco ufficiale della serie tv The Walking Dead mancate che sono salate ufficiali perché te l'ho detto io no no hai detto tu che è ufficiale comunque io questi screenshot del gioco preparatore fanno veramente no vediamo cioè allora lo stiamo a cominciare adesso non critichiamo il gioco prima di cominciarlo a me lo scarico in italiano grafica bellissima ma che cazzo stiamo a giocare a Pro Hunting Simulator ma che è? non è quello di caccia beh mamma mia dai vabbè però questa maglietta boscaiolo pochè graggia ma non diamo fare cosa come si chiamava da canter da canter c'ha una sensibilità c'ha una sensibilità a palla raga ma il gioco dei zombie deve essere realistico deve essere così tu qua non braccio di fucile come stai? ok vediamo un po' e spara un po' ma perchè c'è sto stronzo che mi dice la roba cosa fa? vabbè la bussola ma guarda che caccia ma che cazzo è rega Metal of Honor AliEd Assault quella bussola coe cutello ma qua come sai che può metter pure in terza persona vabbè e vabbè fono sacre né vabbè lo metter pure in terza persona e come fa? o la C no, quello lì era WarZip guarda questa è molto simile a WarZip ma chi è? ma chi è? il vecchio sopra il camper no, non penso non gli può sparare mamma mia fino adesso non è proprio il miglior gioco che abbiamo mai giocato per quanto sono appassionato delle sagre zombie io l'ho detto delle sagre delle sagre? perché? quando le sagre fanno prima c'era la sagra del Lattarino poi quella del Corregone adesso fanno una sagra degli zombie come dice che Santa Rosa a Viterbo prossimano non la fanno fanno una sagra dei zombie quanto donna? ma che ne so c'è la bussa qui in realtà è Metal of Honor ti ricordi quello lì? il primo come cazzo chiama? underground una cosa del genere spari ma io lo spara? eh no, fagli le carezzi ma non volevo Dixon help eh vedi infatti nevo da sparare Dixon help ma guarda come cazzo corre si mette il fucile in poca guarda corre come Call of Duty corre come Call of Duty ma è dall'Activision poi panico 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 paura oddio che è ma una volta c'era il vecchio oh oh ma mua la capoccia troppo ma vaffanculo va headshot oh ma che cazzo oh ma che cazzo mi fa far correre ti fa il cortello ma che cazzo che cazzo no ma che stracciato è ah vuoi da morire adesso non ho vuoi da morire eh si vuoi da morire oh Dixon c'ho t'hanno magnato tu mi fai un po' di straccio oh Dixon no 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 pare quello di armi del futuro diventa dei zombie insieme c'ho però a stilo testa no ma è razzupadri questo oh ma che c'è la capella fradice sempre nella serie uguale c'ha le capelle unte mamma mia bye bye ma che è quella che ti vende non cartoleria vede qui solo la condor questo dice qua ci penso io sorry brother ma quello non è quello lì che poi c'è la scritta mulcherina eh che non è il fratelli di dare la scritta mulcherina una serie non è quello ne so se non è quello ma quello no quello è herl pur la sigla no manca niente merda 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 ma neve merda ma neve merda ma neve pur la sigla pur la sigla è figa però duru 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 cazzo ma è nuova ambientazione del gioco questo è il gioco dell'anno che c'ha scritto palmetto ciao guarda c'è scritto barbiretti oggi ragazzi vi racconto che volevamo avevamo un'idea vi racconto che avevamo un'idea telefonare a un negozio di computer e chiedere se va bene era preferibile l'olivetti con l'issetto o sdinocciolato snocciolato snocciolato ancora piaccio il cortello 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 poi sport drink lb2 lb collegazione lf mouse button il tasto sinistro c'è parecchio da mangiare qui c'è parecchio va che cazzo che è frostbite 2 3 questo non lo capisco non sei proprio bene tu è stato mozzicato pare quello di night baby for peace non fatti adesso lo ammazzo mamma mia io capisco io l'inglese non so proprio ferrato niente c'è solo zombie da correre da sparare tutto fine che cazzo funziona così c'è zombie da correre da sparare tutto ma che sa dicole però ricordati quello che abbiamo preparato vabbè si attacca il cervello non ti preoccupa non ti preoccupa se ti pianto il coltello nel cervello e soprattutto sta zitto ti hai detto pure non ti devi far vedere non ci parlavano ma io non schiaffo un pezzo hai visto di buon carezzare la pelata oh c'era qualcosa di buon carezzare la pelata senti perché perché ho preso un martello si ma l'inventario come lo apro per curiosità la rondella si oh mette la visuale in terza persona così fa cagare ma non ce la posso mettere in terza persona si la vuoi mettere no e come fa e guarda davide sta a ralentare il gameplay di sto gioco bellissimo ma vaffa infatti ne vede sta a passare il culo ho visto in terza persona per sentire le cazzate l'hai visto in terza persona davvero? si l'ho visto in terza persona ma in terza persona è quello che c'è stato prima di walking dead control configure control mario sopra walk heaven sopra 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 giù giù rilod giù giù ti dico io quando vedo qualcosa giù 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 non c'è niente io l'ho visto in terza persona non si può mettere in terza persona solo in prima che cazzo è qui perché poi è uno scogliato ah ah non bece questa è chiusa lei dice si è venuto beh su walking dead fanno di tutto io ero moglie la fanno di una porta chiusa perché questo è il gioco ufficiale valla dai ma guarda ma dai ma che è sto zombie è patetico è patetico ecco l'ho ammazzato c'è qualcosa di patetico l'animazione non è vero è bellissimo adesso quanto era tutto proprio realistico scusate nel secondo ma sto gioco come ne è uscito adesso giusto fa domanda è poco non è tanto e quanto costerebbe tecnicamente non c'ho idea se costa più di 3 euro è un furto è sgarro oh oh è sgarro non è quando gli ha fatto le cose da morgano sgarro wow l'intelligenza attività è il senso madonna questo gioco è pessimo c'ha un livello di qualità pare a big rigs sto gioco sgara 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 ancora mai visti i zombie meno reattivi oh ma vaffanculo ma crepino resident evil gameboy color mettevo in paura guarda guarda come casca lo gioco i pericolotti pare a giocare al barbiere di Siviglia ma perché c'è un gioco ma perché non ha rompere il cazzo tutto insieme in un fuoco sgara guarda qui guarda sgarro guarda ti imbruttiscono ma fanno cazzo non fanno niente no ma io non ho capito cosa da fare vabbè che cazzo ho da fa mamma mia ma che è sta però è brutto tio caro però è brutto fumo bocca va faccia eccomi dopo la barba faccia tutto guai se zombie ma anche femmina sarà una città dei gemelli tiè guarda che barba che t'ho fatto cazzo ho da giù per canza però è brutto no no è brutto nel senso oh curate fa qualche cosa un martello quel martello è più bello c'ho un martello c'ho un cazzo da me c'ho un martello c'ho cazzo da me cazzo qui che è qui è per curarme no stamina no condition si 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 quello è quello è qui vai clicca su what non lo so spingi troppo mario contro l'altacansh vedate system 32 esci ma ma vaffanculo eccolo no me l'allevava ma seguito ma tutte le otte che uno sa da curare da fa sta storia no ci sei un tasto rapido però che cazzo è la cari telefona se l'è messo nell'orecchio più mattello eccolo più putente comunque più più che mattello è più putente più che la scena dopo quelli sti zombie sembra più quella di una dopo festa ti sa che è che non mi piace a parte il fatto vabbè sì l'animazione zombie è che è troppo cioè non posso andando cazzo mi pare è guidato ti ho detto è metrofonor ne vedi oh amico ti manca un braccio ti manca un braccio oh pare Obama però Obama guarda ma non mi guarda ste cazzate non pari di niente zombie perché gli accendi la luce vabbè sì vabbè sì ah trova un'altra due canne di fuel c'ho c'ho una affetta c'ho una affetta canne di fuel oddio però sto gioco non vi scomodate mai capire la tale veramente brutto ah beh che cazzo è ma cadè che cazzo sarebbe sta roba ma che maiale sei maiale colpo mortale ma sarebbero ma sarebbero vacche qui carcassi di vacche si ma pare madò madonna raga qui non ne volevo vedi io che mi lamentavo dei war z tu te lamenti war z ma war z non è brutto se war z era così a me war z io li denunciavo so criticato perché a me mi piace no vabbè oh c'è il fucile siamo sbancati il fucile spari devi chiudere oh adesso c'ho il fucile non c'ho cazzo a perdi ma ce l'ha stata sopra ma per che ha spiegato le colpe così infatti si ci sei passato da qua ci sei venuto eh c'ho ridonato perché c'ho la naffola ha trovato un altro canne di fuel ha trovato un altro canne di fuel certo mi sa che ho tirato un sacco oh porca troia porca troia ma vaffanculo io sto gioco in gioco c'hai l'occhio bufo è baggata c'hai l'occhio bufo è l'occhio ruvino ah 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 chi è ma vaffanculo madonna mia ma vaffanculo e carepa ma quel coglione che stava con te quel pelato perché ne è venuto fuori ha cacciato fuori la pistola e non ha fatto niente ma adesso come minimo è pelato adesso ma allora la trova è morto ma magari ma sarebbe pure l'ora fa triple kill triple kill è un po' ma collaterale headshot si headshot la colpa è già tanto si trapassano un corpo tutto dai quello è di vero era un collaterale buo donna che era che headshot in movimento madonna è stato tanto quel zombie fasuglia e vabbè ma nessuno vuol dire che sono un cecchino è come giocare con la botta in occhio è rimasto chiuso dentro e lo che dai una martellata ma il canno di figlio oh segui la bussola ma ho danno a peppetto ho danno a tastofrenio no no non cazzo ho danno a piano altro che quello ha un altro canno di figlio che stavamo a dicare la pia non cazzo un gioco di merda con obiettivi di merda serious m era più boh era più ride se ce l'avevo messo guarda che è il sudore qui ma che è il sudore ma è davvero se ce l'avevo messo il sudore ma è davvero schifo ma che è il gioco di corso guarda guarda ma perché è il sudore ma perché ma è davvero questo sudore ma pare che piove ma che schifo ma che zozzata ma no 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 fuori one fuori ciu porca papà porca troia porca troia porca troia pfff che all'inbot so già comunque pesto pesto anche a te devo abbracciare posso tutto uguale sono sorelle aia aia ma fa culo sono morto sono morto meno male sono morto non lasciare il sudore era pathetica nooo ma le volte guardano mi fanno un cazzo ma le mani le mani che schifo ok ufficialmente quel gioco più brutto che abbiamo fatto il gameplay no vabbè ci sono stati dei più brutti che tipo fa una dammi un esempio ma te vengono eh headshot ma oddio madonna cara quella era collaterale collaterale ma faf ho preso la nuova vero finito no a meno che gli viene con il telescopio porca troia le zombie oh 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 ma te l'ho scappato fuori oh la terra si vabbè ma che è ma che è ma che le macche zombie justin bieber oddio chi è qui basta è buono schifo oh brutto consiglio non lo comprate non lo guardate lavatevi le mani se prendete il disco in mano no no si pure io penso che la prima volta che sto d'accordo con Baffo no meno male dopo 23 anni non lo piratate non lo comprate raga fate una fallita fate fallita l'artivision che si permette pure di fare certa roba ragazzoli se siete appassionati della serie raga comprate il fumetto o giocate o guardate il video o guardate il telefilm o io ne so giocate a quell'altro walking dead l'altro walking dead è veramente bello quello è veramente fatto bene questo è una merda l'altro walking dead invece è film ma arrivi così perché non ci ha giocato mai no è bello davvero vabbè chiudiamo sto video un saluto a tutti ragazzuoli da comando wolf su Lord of the Ramon e boh e boh e il signor boh e io mei reno89 ciao ragazzuoli